Mezzo passo falso dell'Italia nelle qualificazioni per i mondiali di Russia 2018. Allo Stadium di Torino, gli azzurri allenati da Giampiero Ventura hanno pareggiato 1-1 contro la Spagna. Dopo un primo tempo deludente nella ripresa accade quel che non t'aspetti. Gli Iberici passano in vantaggio con uno sfortunato errore del portiere numero 1 Buffon, che consente a Vitolo di mettere in rete. Poi l'infortunio di Montolivo al suo posto entra a Buonaventura. Sempre nel corso del secondo tempo, gesto di stizza di Pelle che ha la sostituzione con Immobile rifiuta la mano al Città in Ventura. A sei minuti dalla fine gli azzurri pareggiano con Daniele De Russi su calcio di rigura, concesso per il fallo brutto di Sergio Ramos su Edera. Una partita certamente non semplice, ma che comunque ha dato a Ventura la possibilità di verificare che i suoi uomini in campo, quando sono sotto, riescono a reagire con grinta e volontà. Prossimo impegno domenica prossima in trasferta in Macedonia.